L'impresa significa lavoro, oggi stavo leggendo prima di venire qui i dati sull'occupazione, è tutto un celebrare di record di occupazione, smettiamola di chiamarla occupazione, quello è un record di precariato, oggi abbiamo segnato il nuovo record del precariato come Stato italiano, se vogliamo celebrare il lavoro deve essere un lavoro stabile, dignitoso, che permette alle persone di farsi una famiglia, che permette alle persone di avere un avvenire, non un contratto ogni tre giorni o un contratto a termine dopo una settimana, oggi nel decreto dignità iniziamo a smantellare quella parte di Jobs Act che ha creato la precarietà in Italia ed è solo l'inizio perché spero che il Parlamento ci metta mano in maniera ancora più solida e più forte, come aiuteremo le imprese sulla sburocratizzazione e anche i professionisti, cominciando ad eliminare una serie di istituti che erano stati creati per fare cassa, come finalmente doteremo anche i funzionari di questo Ministero dello Sviluppo Economico di strumenti per affrontare le crisi di aziende derivante da delocalizzazione.